Amici 3B Meteo, bentornati a questa nuova edizione del TG di 3B. Partiamo ovviamente da alcuni record storici battuti in questi giorni, non solo da noi ma soprattutto in altre zone d'Europa. Londra ieri ha toccato i 40 gradi all'ombra, mai successo prima nella storia della capitale inglese, ma anche Parigi, Bruxelles, poi tutta la Spagna e il Portogallo stanno registrando temperature altissime, ora questa bolla d'aria bollente si muove anche verso Italia. Una delle conseguenze sono anche gli incendi che purtroppo stanno interessando molte aree dell'Europa occidentale e ora arrivano anche da noi, ieri tremendo quello che è successo sopra Lucca. Cosa accadrà nei prossimi giorni? Allora partiamo intanto dall'immagine del satellite. Ancora l'otta ci mostra l'Italia senza nuvole, mentre si vedono degli annuvolamenti che sono tornati sulla Francia, anche sull'Inghilterra e in effetti da quelle parti il caldo si sta attenuando, lo possiamo vedere anche da quest'altra immagine, con l'arrivo anzi di acquazzoni e temporali e il caldo intenso si muove adesso proprio verso di noi, quindi ci attendono giornate bollenti, tra l'altro con un'ulteriore intensificazione del caldo, spostandoci verso il weekend con proprio questa massa d'aria bollente che si piazza sul Mediterraneo e sull'Italia. E allora vediamo le temperature che registriamo nel fine settimana, valori davvero alti perché al centro nord arriveremo a toccare anche i 40-41 gradi all'ombra, figurate voi al sole, ma anche al sud temperature in aumento in questi giorni lì non si sta così male, ma torneremo a puntare anche verso i 38 gradi all'ombra. E attenzione, in aumento anche le temperature serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani ci sarà da sudare anche la sera. Per capire quanto caldo farà proprio da voi e sentire che valori si raggiungeranno, consultate l'app gratuita di Trebi Meteo.